Ti sei messa a un fresco disgraziato, e tanti sbagli di malattà. Quanto è la signorina, sarà la bellissima, non mancava proprio il studente, che tendrà sa forza nella mente, ora sei soddisfatta, io ti darei ammattà. Se tu metti, non sai, non sai, non ti cambia e ti fa, se ti vede, ti scappi, ti metti, ti amo, non mancava proprio il studente. Cosa studia fa orta mentale, o che ha provato un tribunale? Se farà il dottore all'ospitale, vieni in casa la nostra giornata. Se tu metti, mi sei messa fissata, mi vuoi farlo piatta, e tu tu parli e mezza il pioggia, ho le voglio, ma ci sei abbonato. Se vuoi fare il cammino, è messo nel giro, la nonna che consente il terremoto la perla, io che ti devo conceppino, è passante ma un figliastro solito. Io che ti devo conceppino, è passante ma un figliastro solito. Signore, si cambia. Si cambia! Lui mi prendeva, diceva si cambia, allora se lei si vuole accomodare, parleremo con comodo. Ma perché? È già detto con comodo. Come chi è comodo? Ma perché? Io intendevo dire, parleremo io e lei. Ah, meno male, siamo solo noi, sa? Perché io con le persone che non conosco, mi sento tanto mai in soggezione. Chiarito ciò, di che cosa la posso offrire? Una bibita? Che cosa preferisce? Un gambarotta? No, no, ma che strega, ciò già mi manca. Allora, un gancino, o quell'altro, come si chiama? Quello, sì, insomma, con il carciofo. Ah, bravo, il carciofo. Però guardi, no, uno solo, magari due o tre, così a casa ci fa un tortino. Allora, penserò io a lei, mi farò assaggiare un americano. Eh? Sì, sì, sì. E lei come io? Mi spado su un cascato a veneno. Scusate, ecco. Dicevo come lo preferisce.